Questi italiani oggi sono divisi in due. Fatto certo il numero dei cittadini italiani avendo diritto di voto, il 50% dichiara di non andare, voler andare a votare. Come mai? Sono delusi, ammaleggiati, disgustati. Qualcuno di loro dichiara andrò a votare perché obiettivo il mio dovere di cittadino ma depositerò nell'urna una scheda bianca. Dall'altra parte l'altro il 50% è fatto dai aventi diritto che votano e si divide per sapopo in tre parti. In una parte ci siamo noi con gli altri partiti nel centro-destra, in un altro terzo ci sta il Partito Democratico con i suoi alleati, in un altro terzo ci stanno tanti piccoli cardigini e soprattutto i...